Settimo giorno di protesta a Gela da parte dei lavoratori dell'indotto dello stabilimento Eni. La settimana è cominciata così come era terminata. Blocchi stradali sulla Gela Catania, Gela Riccata e Gela Vittoria. I dimostranti inoltre hanno iniziato a presidiare l'ingresso della stazione di rilancio del gas libico che arriva in Sicilia attraverso il metanodotto sottomarino Green Stream. Noi a difenza di quello che la gente può pensare, noi non vogliamo ammortizzatore sociale ma noi chiediamo il nostro diritto al lavoro. Noi vogliamo quello che prevede la Costituzione, il lavoro, perché è il nostro diritto. Togliendoci il lavoro ci stanno togliendo la dignità di essere uomini. Noi siamo qua dalle 5 di mattina, una manifestazione pacifica senza nessuna cosa. Noi, come diceva l'altro mio collega, noi se siamo oggi qua solo divendichiamo il posto di lavoro. Noi vogliamo lavorare, tutta questa gente che tu vedi, anche se venendo di qua della Gela Vittoria hai trovato tanta gente messa ai blocchi che richiede solo e esclusivamente il lavoro. Voi continuate a protestare perché giustamente oramai siete sull'astrico. Questa mattina un altro sit-in di protesta pacifico perché sottolineavamo, voi volete soltanto una cosa, il lavoro. Esatto, noi vogliamo solamente andare a lavorare in Cassa di integrazione come mobilità, non lo vogliamo, perché con questi soldi non possiamo vivere. Siamo sull'astrico, siamo a soldi prestati e così non si può andare avanti. Ma c'è stato l'impegno anche da parte dell'amministrazione comunale, regionale, adesso si attende invece il via libera da parte del governo nazionale. Cosa è il regionale, governativo, quello che dite voi? Che ci interessa a noi? A noi ci interessa che ci portano una risposta positiva e dire a tutti gli operai che lavoravate là, chi ha poco, chi ha sai, andare a lavorare e basta più. Questo solo ci interessa a noi. Si attendono dunque risposte concrete da Roma e da Palermo. È iniziata infatti una settimana decisiva per le sorti della raffineria di Gela e di 2.500 lavoratori tra diretto e indotto. Oggi alle 16 a Palermo il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, coordinerà un tavolo tecnico convocato per determinare il possibile ricorso alla Cassa Integrazione in deroga per le maestranze gelesi. Vi parteciperanno ENI, sindacati confederali, prefetto di Calzanissetta e funzionari regionali.